Dopo un anno di stop per pandemia e un 2021 di competizioni senza pubblico, la World Cup di ginnastica ritmica torna alla Vitri Frigo Arena che si conferma abituale casa della Kermess da 13 edizioni. Nel comune di Pesaro è stato presentato oggi l'appuntamento dal 3 al 5 giugno con una Vitri Frigo Arena a capienza piena e una World Cup pesarese che sarà la tappa di chiusura del circuito dopo gli appuntamenti di Atene, Sofia, Tashkent e Baku. La tredicesima edizione di Coppa del Mondo, considerate che nel frattempo abbiamo anche organizzato un mondiale, possiamo dire che la città, la Vitri Frigo Arena, si confermano veramente il polo centrale in cui la ginnastica ritmica ha trovato casa e dove dà il meglio di sé. È un indotto importante anche sotto il profilo turistico, non solo per i numeri che si fanno in città ma per la promozione che è un evento di questo genere. Sono previste dirette televisive nazionali ma sono decine e decine i media internazionali che si stanno accreditando e che trasmetteranno via streaming poi la manifestazione nelle nazioni di provenienza. Siamo molto fiduciosi, pensiamo di avere tanta gente, abbiamo le dirette in televisione con la 7, direi che la ginnastica sta crescendo tanto, non solo nella ritmica. Saranno 32 le nazioni in pedana con 140 ginnaste in gara e con una nazionale, quella ucraina, che sarà a Pesaro per una presenza che andrà al di là dei connotati sportivi. Appena scoppiata la guerra in Ucraina mi sono sentita di sentirmi con Irina Zirugina, che è la responsabile della nazionale ucraina, dicendogli che l'Italia c'era, naturalmente l'ho chiamata come team manager della federazione, ma poi gli ho detto che anche la Coppa del Mondo era disponibile ad aiutarli e loro al momento non sapevano cosa fare, se era possibile o meno. Poi abbiamo visto che si sono iscritte a tutte le coppe, ma si sono poi cancellate. Poi ci siamo risentiti, loro hanno intravisto una possibilità di venire, non è facile, dovranno prendere un pullman da Kiev a Varsavia, quindi sulle 13-14 ore di viaggio, e poi prenderanno un aereo da Varsavia. Dovrebbero arrivare domani, speriamo, è stata comunque una collaborazione tra il comitato organizzatore, che lo ospiterà per 15 giorni, e il comune di Pesaro. In più rimarranno dopo la Coppa del Mondo un'altra settimana per prepararsi al campionato d'Europa di Tel Aviv, quindi da Pesaro andranno direttamente a Tel Aviv. Così gli abbiamo dato questa possibilità di partecipare sia alla nostra Coppa che al campionato d'Europa. In quella settimana, non avendo delle palestre disponibili né a Pesaro né a Fano, abbiamo trovato la collaborazione della Fiera dei Rimini, che ci lascerà un modulo tutto per loro, e quindi è veramente stata un'unione di forza tra tanti enti. Fortissime le ambizioni dell'Italia con la squadra delle Farfalle Azzurre, composta da Alessandra Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mugurean, Laura Paris e Martina Sant'Andrea, mentre tra le individualiste si annunciano protagoniste le marchigiane Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Nella storia entreremo, perché se tutto va bene dovrebbe vincere il circuito di Coppa del Mondo 2022 un'italiana e non è mai successo, è veramente qualcosa di straordinario. La nostra nazionale italiana lo stesso, le Farfalle, quindi penso che sarà una Coppa che ci ricorderemo per tanto tempo. Ci sono tante nazioni, ma l'Italia in questo momento, anche dovuto al fatto della guerra e quindi della mancanza della Russia, bisogna dirlo, della Bielorussia, chiaramente abbiamo un vantaggio, però con la squadra come sta andando in questi ultimi tempi penso che non ce ne sarebbe stato per nessuno, insomma, fino ad oggi perlomeno è così, speriamo che continui così anche nei prossimi dieci giorni.